vi è mai capitato di vedere un video del tipo fai da te di un oggetto che vi piaceva però avete lasciato stare dicendo che no questo qua non fa per me pure non riesco a farlo perché sarebbe troppo difficile da fare beh se rimani fino alla fine di questo video te ne rendi conto che non è così difficile ciao a tutti amici e ben trovati di nuovo sul mio canale youtube come sapete già questo canale dedicato al fai da te e anche qualche recensione quindi se non è ancora fatto iscriviti al mio canale per vedere gli altri video futuri oggi invece faremo un tavolo in resina con i tappi di sughero va bene ora comincerò a fare lo stampo ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.